L'imponente crescita di casi positivi al Covid di ieri ha particolarmente interessato la provincia di Teramo, con oltre 200 positivi, quasi la metà del totale registrato in Abruzzo. Il dato più alto da oltre un anno, in particolare dal 28 novembre 2020, quando nel pieno della seconda ondata i contagi furono 241. La zona più interessata è soprattutto quella vicino alla zona costiera, come a Musciano che rappresenta un caso particolare, visto che ieri per nuovi contagi si attestava al secondo posto in Abruzzo, dietro a Pescar e al pari con l'Aquila. Nella scuola del comune si è instaurata una sorta di andamento a Gambero, per una classe che rientra in presenza ne arriva un'altra costretta ad entrare in didattica digitale integrata, dove gli insegnanti impartiscono le lezioni comunque lontani dagli alunni. Per accelerare il più possibile la campagna vaccinale, la ASRA ha deciso di riaprire alcuni centri di somministrazione sul territorio. Il prossimo a tornare operativo sarà l'8 dicembre, quello di Giulianova, in Via dei Pioppi, centro che sarà gestito dai medici di base e resterà operativo due giorni alla settimana e già nella data d'apertura è in grado di somministrare almeno mille dosi di vaccino. I cittadini interessati potranno prenotarsi tramite la piattaforma di poste italiane. L'apertura degli spocchi è un atto dovuto in quanto stanno aumentando le richieste di somministrazione di vaccini, sia per le prime dosi che per le terze, dichiara il direttore generale dell'ASRA, Maurizio Iggiosia. La collaborazione dei territori e dei medici di base sta dando buoni frutti, tant'è che la ASRA da qualche giorno supera 2.500 vaccinazioni giornaliere, superando la quota target fissata dal commissario Figliuolo.